Salve, oggi ti mostrerò un emulatore in grado di emulare la maggior parte delle console, o meglio, ti mostrerò un programma che racchiude in esso i migliori emulatori disponibili per ogni console. Il programma in questione è WinDS Pro, disponibile gratuitamente dal suo sito ufficiale, sia per Windows che per Linux. Una volta aperto il programma, ti basterà scegliere un emulatore ed eseguirlo. Ovviamente per poter eseguire un gioco devi scaricare la sua ROM, e ricordo che questo procedimento è legale se non possidi la copia originale del gioco. Dopo aver scelto l'emulatore basta selezionare il file del gioco e farlo partire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.